Buongiorno e buon fine settimana, ben ritrovati oggi sabato 3 dicembre, siamo qui come tutte le mattine per scoprire cosa ci propongono stamane i quotidiani, come sempre andremo a fare il giro delle prime pagine per scoprire insieme le anticipazioni e quindi di conseguenza gli argomenti più importanti della giornata. Partiamo subito con il nostro giro, partiamo dal quotidiano la Sicilia, anche questa mattina una ricca prima pagina, tra i temi ad esempio c'è questo molto interessante, il titolo è Cattivi, al villaggio Coldiretti infatti i riflettori sono accesi su Italian Sounding e Marchio Mafia, pensate un po'. Cambiamo decisamente argomento, si parla di politica, politica regionale, Fratelli d'Italia, Pax Interna e Scudo su Schifani, ma a Catania un nostro candidato. E poi Bonomi chiede tasse più leggere, il presidente di Confindustria dice rilancio del lavoro e taglio del cuneo. La manovra, i partiti chiedono una proroga al superbonus e il MEF va in cerca di risorse adeguate. E poi la regione contro la crisi parla il governatore Schifani, imprese, fondi per 365 milioni e ora le famiglie. Buffera invece sulle parole di Matteo Salvini che ha detto rompiballe chi paga il caffè con il bancomat. Queste le parole del ministro. E poi l'allarme lanciato da Amenta di Ance, bollette triplicate, i comuni siciliani sono ormai allo stremo, mentre arrivata finalmente la svolta sul caso Isab Lucoil, pronti a cooperare con il governo, consegne garantite. Andiamo in taglio alto, si parla di spettacolo da Palermo alla ribalta di X Factor, Beatrice Quinta, un ciclone a tutta musica. Il giro poi delle città, cominciando da Catania, il Consiglio approva il bilancio di precisione, sempre a Catania, ma in provincia installati 13 mammografi 3D. Caltagirone vola da oltre 5 metri, è grave purtroppo un operaio. A Taormina invece parla, passa l'acqua che scende in campo e dice aperti al confronto. Lasciamo il quotidiano alla Sicilia, ci spostiamo adesso sul giornale di Sicilia, si parla di imprese e in questo caso vedete di imprese stremate e con gli aiuti, scrive il giornale. La giunta regionale ha stanziato 365 milioni per contrastare il caro bollette scongiurare rischi di chiusura, salvaguardando l'occupazione fondi anche per l'agricoltura e intanto in arrivo un'altra stangata sul gas, aumenti di circa il 14%. La raffineria Lucoil corsa contro il tempo per il depuratore, mentre abbiamo visto prima le parole di Bonomi, Ira, vedete di Bonomi sulla manovra, niente sgravi, cancellato il sud, queste le parole del presidente di Confindustria. Vicenda Open Arms, Toninelli e Trenta, decise tutto Matteo Salvini, mentre per quanto riguarda la cronaca la donna ucciso a bel passo ha aperto la porta al suo assassino, le indagini non sono ancora giunte a una svolta, vedremo se arriveranno delle novità, degli aggiornamenti. Tentano di rapinare una farmacia, due arrestati, vedete a passo di rigano, ancora cronaca, Falegname morto, sette avvisi di garanzia, l'incidente sul lavoro avvenuto nei giorni scorsi a Palermo. E poi ampio spazio al caso Juve con tutte le trame di Agnelli & Company, nuovi dettagli, vedete degli atti dell'inchiesta sulla Juventus. In taglio alto Putin trattiamo, ma non lascio i territori annessi, dice il presidente russo e poi è stato preso l'uomo che ha investito l'ex campione Rebellin, si tratta di un uomo purtroppo recidivo, vedete, e ha provocato, lo ricordiamo, la morte del grande campione Rebellin. Attentato invece alla diplomatica Schlein, si segue la pista anarchica, Tajani dice evviva per miracolo. Proseguiamo con la nostra rassegna stampa, lasciamo il giornale di Sicilia, questa invece è Repubblica Palermo, si occupa di un tema molto importante che riguarda i giovani, il bullo colpisce sul web in Sicilia e record di abusi. Un minore su cinque denuncia vessazioni, lo psicologo dice genitori, occhio ai social. E poi un interessante reportage, la mia scuola sgarrupata, viaggio fra i calcinacci, fra calcinacci e transenne, certamente la situazione di tante scuole siciliane è tutt'altro che buona. Il femminicidio di Belpasso, il mistero di Giorgeta ha ucciso nel suo eremo. Come detto le forze dell'ordine stanno ancora indagando, stanno cercando di capire chi ha ucciso questa donna di origini romene. E ancora il caso, cinque mesi senza doda, l'operaio dei diritti. Si cerca ancora questo giovane. Mala sanità, reparto fantasma, i bambini malati si curano altrove, vedete la foto dell'ospedale civico di Palermo. Mentre per quanto riguarda la regione siciliana, con il tesoretto dell'Unione Europea aiuti alle imprese per il caro energia. Lasciamo anche Repubblica Palermo, restiamo però su Repubblica, in questo caso l'edizione nazionale. Si parla ancora del tanto discusso POS, della situazione del contante, POS allarme evasione, titola in questo caso Repubblica, la Corte dei Conti in manovre misure che interrompono un percorso intrapreso per la tracciabilità dei pagamenti. Giorgetti però minimizza sull'inalzamento del tetto a 60 euro, ma otto transizioni con carta di credito su 10 sono sotto quella soglia. Intanto la task force europea per il PNRR sui tempi e sulle riforme non si discute. Lasciamo anche Repubblica, andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera, in apertura invece la guerra in Ucraina, Biden-Putin, dialogo a ostacoli, titola il Corriere, lo zar tratto ma non alle condizioni degli Stati Uniti. Michelle dice la scelta sui negoziati spetta a Kiev, il Cremlino dunque replica al presidente americano che lega i colloqui al ritiro russo, Mattarella parla di un bivio, invece vedete tra guerra e pace, insomma un giorno pare ci possa essere uno spiraglio di apertura, il giorno dopo invece vedete le cose cambiano drasticamente. E ancora attacco alla diplomatica italiana, ambasciata di Atene, bomba incendiaria contro l'auto di Susanna Schlein. Andiamo avanti, lasciamo il Corriere, questo è il quotidiano La Stampa, cominciamo con una delle notizie di giornata, ovvero vedete l'attentato ad Atene, la pista di Torino, due ordigni contro la casa della diplomatica Susanna Schlein, sorella di Ellie, Tajani dice e salva per miracolo. E poi il caro bollette arriva la stangata d'inverno, dopo la flessione di ottobre luce e gas tornano a salire del 13,7% a dicembre, super bonus intanto verso la proroga. E ancora la Corte dei Conti boccia le misure sul POS, tetto al contante flat tax, violati gli accordi europei sul PNRR. Lasciamo anche il quotidiano La Stampa, proseguiamo il nostro giro dei quotidiani, abbiamo ancora diverse prime pagine da vedere, questo ad esempio che vi proponiamo è l'apertura del quotidiano il giornale Conte soffia sul fuoco, prove di autunno caldo, scrivono i colleghi del giornale. L'ex premier grillino aizza le fasce più deboli contro il governo per blindare il reddito di cittadinanza. Ieri la prima tappa del tour a Scampia fa flop, il trappolone sul covid della sinistra contro Fontana. E ancora il processo open arms, adesso la 30 lancia un siluro contro Salvini, l'ex ministra in aula contro il leghista. E poi notizia vista anche poco fa, la Corte dei Conti blind del POS e la premier dai voti ai ministri. Vedete, è ormai scontro aperto sul contante, se ne parla effettivamente ormai da giorni. La guerra in Ucraina, Biden allontana la tregua, ora non parlo con Putin, dice il presidente degli Stati Uniti, mentre per quanto riguarda la morte di Rebellin, piede libero il pirata che ha ucciso l'ex campione di ciclismo, ora la politica si occupi dei ciclisti. L'uomo che lo ha investito e ucciso, vedete, aveva già dei precedenti. Lasciamo anche il giornale, siamo sul Fatto Quotidiano che si sofferma sulla guerra in Ucraina, legata in questo caso all'invio di armi da parte dell'Italia. Gli altri parlano di pace, in Italia invece più 800 milioni in armi, vedete il Fatto Quotidiano che parla infatti di un governo bellicista, più spese militari, mentre Macron prepara la conferenza del 13. Tagliati fuori, stop and go Biden-Putin, ma nessun no all'invito francese, Cassini dice Roma marginale al rimorchio degli Stati Uniti. Proseguiamo, questa è la prima pagina del Quotidiano La Nazione che invece in primo piano si sofferma su un altro tema molto importante, ovvero quello dei cantieri, vedete che restano fermi, il flop dei fondi europei, ricorsi, protesti ambientaliste, costi delle materie prime, bloccati, i nuovi tratti dell'alta velocità finanziati col PNRR, così, giustamente scrive La Nazione, si perdono i soldi. Maxi aumento per le badanti, ma le famiglie guadagnano sempre meno, super bonus verso la proroga, mentre intervista Bettini del PD che dice spero in Orlando. E poi in taglio centrale, bomba anarchica, questo il titolo sull'attentato di Atene contro la diplomatica Schlein, sorella di Ellie, salva per miracolo la galassia antagonista fra Grecia e Italia. Ci spostiamo sul Quotidiano Il Tempo, in primo piano invece le prossime elezioni per quanto riguarda la regione Lazio, mancano dieci settimane al voto, ancora dubbi nel centrodestra, ultimo miglio per la regione, questo è il titolo, si vota, vedete, il 12 febbraio, l'indicazione del candidato spetta a Giorgia Meloni, ma impegnata al governo. Le riserve saranno sciolte alla Kermess Fratelli d'Italia di dicembre, tra Cassini e Angelilli sono i favoriti. E poi il processo Open Arms, un sottomarino seguiva la Open Arms, ma la ministra Trenta non lo sapeva. Mentre guardate un po' questa notizia, italiani diventati malinconici, è un rapporto della Censis che segnala un paese provato dalle recenti quattro crisi, dunque gli italiani dopo questi ultimi anni, questi periodi piuttosto complicati e turbolenti, sono diventati, vedete, un popolo di malinconici. Il Quotidiano Libero apre con il processo a Salvini, un sommergibile affonda i PM anti Salvini, il processo Open Arms spunta un video della Marina che incastra la ONG, la Procura l'aveva tenuto nascosto. Libero che si occupa anche della situazione della Juve, una Juve inguaiata dai suoi stessi campioni, l'inchiesta e le intercettazioni, si sta parlando tantissimo in questi giorni di una notizia chiaramente importante, non soltanto dal punto di vista sportivo. E a proposito di sport, come tutte le mattine andiamo a vedere le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani, ovvero Gazzetta, Corriere dello Sport e Tutto Sport. Partiamo dalla Rosea che si occupa in primissimo piano di Lukaku, che ha fatto flop a dire il vero ai mondiali, Lukaku a tutta Inter, il mondiale, vedete, cambia il destino dell'attaccante. Dopo il flop col Belgio, il Chelsea ha riaperto al rinnovo del prestito e lui vuole ripartire subito con i Nerazzurri per dimenticare, in effetti dimenticare sia una via di stagione molto complicato, segnato da un infortunio, e poi questo mondiale in cui lui e il Belgio hanno fatto flop. Il mondiale, mille di questi messi ottavi con Argentina-Australia per la millesima di Leo, un paese dell'altro mondo, dunque grande attesa per l'Argentina. Ieri intanto altri verdetti, no Neymar, no party, un'altra grande KO, tocca al Brasile che aspetta Neymar, ma il Brasile comunque era già qualificato. Lasciamo la gazzetta, siamo sul Corriere dello Sport, si parla invece del futuro della Juventus, vendono la Juve, titola il Corriere, clamoroso, si moltiplicano le voci su Exor disposta a cedere il club bianconero. Prima di Natale i nomi del nuovo CDA e c'è imbarazzo, vedete, sulle intercettazioni. E poi Messi salta di più, Olanda-Stati Uniti e l'Argentina con i canguri, ovvero contro l'Australia aprono gli ottavi del mondiale. Leo insegue la storia e Batistuta c'è ansia per Di Maria, Lautaro ancora fuori, Van Gaal dice andremo in finale. Dunque adesso si comincia davvero a fare sul serio perché arrivano le sfide a eliminazione diretta e dunque è vietato per tutte sbagliare. Siamo sul quotidiano Tutto Sport, Torino e Juventus in primo piano, partiamo dalla Juve, una Juve scrive Tutto Sport che non si piega, il CDA di missionario riscrive il bilancio 2021-22 accogliendo solo in parte i rilievi Consob e ribadendo così la convinzione della propria innocenza. Intercettazioni, ecco cosa c'è da sapere, il calcio italiano intanto invita alla prudenza, niente caccia alle streghe. Per quanto riguarda invece il Torino, anzi un compleanno del Torino, un regalo mondiale. Oggi il club infatti compie 116 anni e domani sul giornale è la tavola rotonda organizzata da Tutto Sport con musicisti, scrittori e registi ovviamente per festeggiare questo importante anniversario del club Granata. Intanto Vagnati prepara la relazione sui potenziali rinforzi per Juric, visti in Qatar, da Ito, Auea a Bufal, ecco la lista. Dunque Torino che guarda al futuro, pensa al passato per festeggiare la sua gloriosa storia, ma guarda anche al futuro cercando nuovi acquisti, nuovi colpi per Juric. Noi intanto ci fermiamo qui, abbiamo fatto anche oggi il nostro consueto giro dei quotidiani, abbiamo visto come sempre tanti argomenti molto importanti e molto interessanti, abbiamo visto tanti quotidiani, abbiamo parlato anche di sport. Possiamo dunque fermarci qui, chiudere questa edizione della Rassegna Stampa e come sempre vi ringraziamo per essere stati con noi.